in quegli anni, io negli anni 70 c'ero, Serena invece Candela non c'è rimasto, non per il te, io ho usato la parola giusta, loro sono insieme a tutti volevo solo dire a tutti che non sarei cercantato la giornata di risolvere il problema, grazie non saranno raggio e lui è stupendo che grazie